Negli anni 70 da noi si viveva come un Libano quando c'è stata la guerra civile e si veniva ammazzati praticamente sotto il portone perché magari li avevano scambiato con un'altra persona. Era un clima per fortuna non replicabile perché era condizionato da tutta un'altra serie di questioni che non riguardavano solamente noi, noi eravamo l'ultima propagine, la cui tragicità ancora adesso noi non riusciamo a veicolare. Sapevamo esattamente come andava a finire, è stata una scelta esistenziale. C'era una cultura rivoluzionaria, l'idea che era possibile fare una rivoluzione. La mia famiglia Diciamo dal punto di vista sociale medio borghese. Mio nonno paterno era un cantante lirico, mia madre e mio padre si sono conosciuti alla Chiamine Belle Arti, mio padre è diventato uno scenografo, mia madre inizialmente era un insegnante di educazione artistica che dopo il terzo figlio ha smesso di lavorare per altre necessità. e da parte di mia madre diciamo per lo più tutti quanti erano stati ufficiali, non di carriera, poi professori universitari o alcuni nel corpo diplomatico. L'influenza politica che abbiamo avuto da parte dei nostri genitori è stata nulla, nel senso che c'era una convenzione, probabilmente anche questa, abbastanza medio borghese, medio alto borghese, che la politica non era un argomento comunque di cui si parlasse all'interno della famiglia e meno che mai tra adulti e e figli. Sicuramente c'è stata un'influenza valoriale di carattere non diretta, non impositiva però attraverso la scelta di libri, di letture, anche semplicemente discorsi che si apprezzavano tra padre e figlio. Marcello De Angelis, romano, classe 1960. Negli ultimi anni è stato prima senatore di Alleanza Nazionale, poi deputato del Popolo della Libertà, direttore del secolo d'Italia, grafico, musicista. La sua è stata una giovinezza turbolenta, attraverso una serie di gruppi della cosiddetta destra extra parlamentare romana, fino ad approdare a terza posizione. Un impegno politico totalizzante, caratterizzato anche dal confronto fisico sulle strade con i giovani della sinistra radicale. Il fratello Nazareno, detto Nanni, condivise con lui quegli anni di militanza. Perse la vita in carcere, in circostanze ancora misteriose, il 5 ottobre del 1980. Io sono andato al liceo nel 73. Il 73 era già un momento di grande fermento politico, anche di violenza, pur frequentando comunque io delle scuole pubbliche, ma comunque in un quartiere come i Parioli, un quartiere per certi versi protetto, se non altro rispetto a determinate dinamiche sociali. Però in realtà dove la presenza militante e anche in particolare quella di estremamente sinistra, che comunque era maggioritaria ovunque, era molto molto presente, perché poi non era legata a fattori sociali. Insomma, noi avevamo questo quartiere figli di giornalisti o anche di persone molto influenti, che erano molto molto coinvolte a livello militante in un'organizzazione extraparlamentare di sinistra. Era possibile un'amicizia con questi ragazzi di sinistra per lei, oppure vedeva solamente una contrapposizione, un confronto? Io le ho avute da subito, alcune me le sono trascinate dalle medie, nel senso che io stavo in una classe di 31 maschi alle medie e che chiaramente poi ho ritrovato anche al liceo e arrivati al liceo molti hanno fatto scelte differenti, anche radicali. Ho altre amicizie che ho effettivamente, che sono nate nel periodo del liceo e che io ho mantenuto anche fino adesso, le persone che a quei tempi stavano a, insomma, avanguardia operaia, piuttosto anche gruppi diciamo abbastanza estremi, con cui però io poi ho mantenuto una sintonia, un affetto che continua fino adesso. Qualche cosa che mi segnò profondamente e mi fece fare tantissime riflessioni, più che un libro, fu un film che era il film Viva Zapata, che io poi ho rivisto e che coltivo come una memoria molto profonda. Ci furono poi delle letture più occasionali che altre, perché conoscendo persone più grandi, quando dico più grandi, un paio di anni di più, c'era comunque una circolazione di libri che poi, per quanto riguardava quella che era poi definita, diciamo, l'estrema destra o quello che fosse, erano libri quasi clandestini, di consenza avevano il fascino della lettura proibita. E non parlo di libri scioccanti, ma anche, non so, piuttosto, Drew La Rochelle, piuttosto che Brasillac, erano degli autori. Selinna era innominabile, no? Mai uno sarebbe poi aspettato di trovarlo edito dalla Repubblica o dall'Espresso, non molti anni dopo. Noi, in quel periodo, almeno, diciamo, il giro di persone che poi frequentavo io, con cui sono stato più coinvolto, il termine fascista non lo prendevano proprio neanche in considerazione. Nel senso che era considerata una cosa che c'era stata prima e che, malgrado in realtà la nostra vicinanza di allora con la fine della guerra, perché stiamo parlando del 73, quindi erano passati meno di trent'anni, era sentita come una cosa remota come, non so, come le guerre garibaldine. Eravamo affascinati da una cultura dominante che comunque, per esempio, esaltava i movimenti di liberazione, che apparentemente erano tutti di sinistra, poi approfondendo scoprìvi che non lo erano, che c'erano, sì c'erano i Tupamaros, ma c'erano poi i Montoneros, e invece in realtà erano peronisti. C'era l'M19, che erano più, diciamo, tradizioni, più patriottici. Quindi noi avevamo un forte senso di socialismo patriottico, per certi versi, nel senso che gli elementi che noi sentivamo di più erano questo amore estremamente romantico per la patria e la retorica patriottica non è mai una retorica pacifista, cioè sempre fondata sul ricordo, non so, dei nostri genitori o nonni che avevano fatto comunque la guerra, di cui noi eravamo orgogliosi, in fin dei conti. E poi però un forte senso di ricerca di giustizia sociale, che guardandosi intorno non percepivamo, ed eravamo troppo giorni da capire che alcuni meccanismi sostanzialmente sono pressoché connaturati a tutte quante le società e non si disinnescano. Ma comunque in ogni caso un giusto, legittimo, in particolare anche per la giovanità, desiderio di miglioramento del mondo. Io mi iscrivo nel 1973, l'autunno del 1973, al Movimento Sociale Italiano, perché non avevo ancora 14 anni e per iscriversi al fronte della gioventù ci volevano 14 anni. Stranamente invece per iscriversi a un partito no, una cosa strana. Durò pochissimo perché in realtà quello fu una cosa che facemmo, noi eravamo un po' un gruppo di ragazzi che fregantavamo tutti insieme la parrocchia, andavamo tutti quanti insieme dagli scout, giocavamo tutti quanti a pallone e arrivò un momento in cui decidemmo tutti quanti insieme di fare questa scelta. Scelta che poi non venne portata avanti da tutti e non nella stessa maniera. Alcuni l'anno dopo si iscrissero alla FIGC piuttosto che altro, però fu una scelta di gruppo. Nel momento stesso in cui si perse nel giro di un anno o poco più questa omogeneità della spinta, io e mio fratello, che non ci sentivamo particolarmente a nostro agio in quel contesto, ne uscimmo guardandoci intorno per vedere effettivamente che cosa succedeva e soprattutto scoprendo, andando al liceo nel frattempo, che c'erano delle altre realtà più particolari, più strane, per certi versi anche che incuriosivano di più. Dal 75 al 77 c'erano delle propaggini di gruppi come lotta di popolo, il fronte strumento, il cosiddetto nazimaoismo. Sì, quelli che poi vennero chiamati a studiare, non so quale giornalista si inventò questa formula, molto affascinante ma assolutamente poco rispecchiava la realtà, insomma nessuno abbia mai accettato questo tipo di definizione, ma che era un po' una definizione giornalistica shock per dire cioè questo è di estrema sinistra però in realtà è di estrema destra, per riuscire bene o male a definire uno simoro trovarono questa formula, che però comunque erano troppo grandi per noi, per cui noi sostanzialmente li conoscevamo, ma c'era una distanza che a quei tempi era incolmabile, quei 4-5 anni praticamente che segnavano una differenza generazionale incolmabile. L'Otta Suotesca nasceva come un coordinamento di gruppi assolutamente autonomi che si erano formati fuori dai partiti o dai gruppi organizzati in vari licei di Roma. Ci eravamo cercati vicendevolmente, ci eravamo conosciuti e sostanzialmente secondo l'idea che l'unione quanto meno rafforza, avevamo cercato di fare un coordinamento. Questo coordinamento aveva due principali espressioni, quella di fare un volantino unico, poi cercammo di fare un giornale, fare dei manifesti che erano comuni a tutti quanti e anche quello sostanzialmente di spalleggiarsi nelle situazioni di rischio fisico, che appunto è necessario ricordarlo, era assolutamente in quel periodo la quotidianità, assolutamente all'ordine del giorno. Qui c'era proprio anche spesso la difficoltà di uscire da scuola, insomma, o di ritornare a casa e quindi era una sorta di meccanismo di mutuo soccorso, di mutua protezione. Come viveva la sua famiglia in quegli anni, un impegno così totalizzante nella vita di tutti i giorni, un impegno politico così totalizzante da parte sua e di suo fratello Nazareno? Malissimo perché avevano, ovviamente, percepivano il pericolo, molto più di quanto lo percepissimo noi che eravamo adolescenti, vedevano tra l'altro che la situazione generale andava verso un'evoluzione sempre più violenta, sempre più pericolosa e quindi temevano giustamente anche proprio per la nostra incomità fisica e per la nostra vita. Tra l'altro poi nel tempo effettivamente ci fu uno, mio fratello venne accoltellato più in là e tentarono di farci degli attentati a casa e chiaramente questo ci mise anche davanti alla consapevolezza che noi con il nostro agire stavamo esponendo anche la nostra famiglia al pericolo. E' un attentato di che tipo? Noi cerchieravano di darci fuoco alla casa, una cosa che andava abbastanza di moda in quei tempi. Noi avevamo anche dei fratelli più piccoli, quindi sostanzialmente vivevamo in una strada abbastanza protetta, quindi era un po' difficile varcare il cancello, arrivare fino al nostro appartamento, però ad altri nostri amici sodali bruciarono la casa oppure anche i misero bombe o cose di questo genere. L'approdo finale dei fratelli De Angelis nel loro percorso di militanza fu terza posizione. Una formazione che in quegli anni esercitò una fortissima attrattiva sui giovani, specie quelli dell'area romana. Si trattava di un movimento nazionale rivoluzionario di rottura nei confronti delle logic del periodo, soprattutto per la sua posizione di equidistanza critica e alternativa rispetto a quelli che venivano definiti i due blocchi imperialisti, quello sovietico e quello americano. La lotta sui gioventesca durò pochissimo, terza posizione nasce nel 78, la lotta sui gioventesca in realtà metà del 76. In realtà guardandosi indietro la cosa curiosa anche per me è stata la rapidità di evoluzione di quel tipo di azioni, perché in realtà io sono nato nel 60, quindi in fin dei conti nel 78 avevo 18 anni, eppure noi eravamo tra i grandi sostanzialmente, quelli più grandi noi avevano 21, 22, 23 anni, non si superavano i 25. E tra l'altro questo era un pochino una sorta di condizione che noi ci eravamo dati, venendo da un'esperienza molto fumosa della politica parlamentare, ma anche extra parlamentare, che ci aveva indotto a tutti quanti come generazione per una sfiducia totale nei confronti di chiunque avesse più di 25 anni, in buona sostanza. C'erano tutti quanti gruppi extra parlamentari, più o meno definiti di destra, che erano sospettati di essere coinvolti con affari loschi, ma erano stati tutti sciolti sostanzialmente nel 72-73, quando noi eravamo proprio neanche al liceo stavamo, o appena arrivati al liceo. Quindi c'era stato questo vuoto che non era colmato e soddisfatto dalle organizzazioni giovani dell'MSI, quale anche lui aveva comunque dei connotati che non erano attrattivi. Questo atlantismo esasperato, questo grande legame appunto con gli apparati, con la democrazia cristiana piuttosto che con la Nato. In un periodo in cui comunque c'erano le stragi, c'erano i colpi di Stato, cioè il mondo era molto agitato, e noi eravamo riusciti a costruire un'immagine, che forse appunto è durata troppo poco per permettere poi a questa immagine di consolidarsi e poi di diventare adulta, se vogliamo, che però effettivamente aveva questo connotato di essere giovane senza essere giovanilista, a essere molto vera e attuale, cioè nel senso era veramente l'espressione di come noi eravamo realmente. Ogni tanto uscivano interpretazioni giornalistiche, come al solito, un po' confuse, che appunto ci indicavano, ricordo un articolo sulla Repubblica che dice si vestono come i loro coetanei, hanno i capelli lunghi, sentono la stessa musica dei loro coetanei, come se questo fosse una strategia, qualcuno pensava a un tentativo di travestimento per non farsi riconoscere. Eravamo semplicemente come eravamo, eravamo percepiti per come eravamo, dicevamo quello che pensavamo senza troppi letture ideologiche, cioè usando un linguaggio più o meno di tutti i giorni, perché non eravamo negli schemi ideologici che potevano venire da una formazione marxista, ma né, non so, linguaggi propriamente di destra, che poi a destra non ha mai avuto un'ideologia, c'era più una linea, se vogliamo. E quindi questo ci ha permesso di insediarci, non solo alle scuole, ma anche in molti quartieri, anche i quartieri popolari, che per noi fu un'esperienza, per esempio per noi che venivamo da quartieri non popolari, quella fu un'esperienza di vita molto importante, perché il fatto di poter partire dai parioli per andare a costruire, aiutare in Borgata a costruire le case, agli abusivi, che poi venivano sostanzialmente, poi difenderli, non so, dai vigili, piuttosto che dalla polizia, è stata un'esperienza che a noi ci ha dato veramente la sensazione di fare qualcosa di vero. Terza posizione, la cui Roccaforte a Roma è uno di questi gruppi. Cosa significa questo simbolo qui che c'è la tua sinistra? Questo è un simbolo tradizionale, appartiene bene o male a tutti quanti la tradizione europea, può essere un simbolo che può avere il doppio significato, un significato soprattutto spirituale, religioso, come un significato ora come ora essenzialmente politico, cioè quello che noi chiamiamo il simbolo del combattente. Stavo nel direttivo nazionale, quindi avevamo un ruolo più politico. La gerarchia che avevamo noi era un po' la gerarchia tipica di tutte le organizzazioni che avevano un servizio d'ordine, cioè valeva per lotta continua, ma valeva per il PC e per certi versi penso per un periodo anche per la democrazia cristiana. Nel senso, siccome effettivamente era un periodo in cui lo scontro fisico, quantomeno il pericolo, era costante, la gerarchia era un salvavita sostanzialmente e anche la garanzia che appunto non ci fossero persone che facessero cose che non erano legittime o altro. Mio fratello era stato in parte un coordinatore territoriale più o meno della nostra zona e poi bene o male però comunque era anche uno di quelli che faceva parte del servizio d'ordine vero e proprio. Il discorso era di evitare la violenza fine a se stessa, cioè sostanzialmente di rispondere con la forza solamente di fronte a un attacco violento, quindi non era concepito l'aggressione nei confronti del singolo oppure la ricerca dello sciacallaggio nei confronti dell'eventuale avversario. L'avversario diventava avversario nel momento che ti stava attaccando fisicamente, che era tra l'altro quello che, ripeto, ci ha permesso spesso e volentieri anche di evitare un innalzamento dello scontro perché appunto i rapporti umani anche con persone pesantemente schierate dall'altra parte erano possibili proprio in virtù di questa limitazione dell'uso della forza. Il 14 dicembre del 79 la polizia sorprende due esponenti di terza posizione, Roberto Nistri e Giuseppe Dimitri, mentre trasportano alcuni scatoloni da un sottoscala ad un'automobile. Dopo una breve sparatoria vengono arrestati. Nelle successive perquisizioni viene scoperto un vero e proprio arsenale. A questo punto il movimento entra nel mirino della magistratura e gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di un doppio livello, uno strettamente politico ed un secondo più occulto e militare utilizzato per azioni avversive, dal quale avrebbero poi attinto militanti i nuclei armati rivoluzionari di Giusva Fioravanti e Francesca Mandro. Non erano due livelli come è stato letto, diciamo, nelle croniche giudiziarie. C'era un servizio d'ordine, il quale servizio d'ordine sostanzialmente era anche più militarizzato, diciamo, del complesso dell'organizzazione come in qualsiasi altro gruppo, ripeto, e non solo extraparlamentare perché poi a questi livelli ci stavano anche nel Partito Comunista e in altri partiti. Ci sono stati a un certo punto, ripeto, terza posizione durata pochissimo, due anni in tutto. E tra l'altro la coda di terza posizione è andata a impattare su un periodo di evoluzione della violenza, diciamo della violenza faziosa, per cui a gennaio del 78 ci fu l'attacco a Calarenzia e altro, con gruppi che sostanzialmente, diciamo, erano riconoscibili e presenti che invece avevano fatto una scelta di lotta armata. Quindi ci sono state delle persone, in particolare quelle più giovani, che facevano più o meno parte, diciamo, della struttura di servizio d'ordine, che hanno stabilito o hanno cominciato a avere o sono state cercate da gruppi o da realtà che facevano proprio illegalità, punto e basta. Questo ha creato, chiaramente, ha fatto esplodere gli equilibri all'interno del nostro gruppo, che comunque, ripeto, era un gruppo anagraficamente molto giovane. Quindi, tra l'altro, mettendo, caricando sulle spalle di quelli che erano più grandi, una situazione effettivamente molto, molto difficile, in cui paradossalmente c'era il rischio di farsi sparare alla schiena da quelli che erano stati i tuoi, praticamente, fino a un anno prima. Io ero uno di quelli che, sostanzialmente, cercava poi di fare da tramite per disinnescare le tensioni, in cui, non so, magari uno mi dava un appuntamento per discutere, per vedere se effettivamente si potevano disinnescare delle tensioni, ma io pensavo, ritenevo o immaginavo che questo potesse anche, invece, poi avere altre conseguenze. Il 2 agosto, sono stati sentiti, ero in vacanza. Stavamo andando sul traghetto, stavamo andando in Sardegna, abbiamo visto questa notizia nella televisione, ci siamo interrogati e, chiaramente, appunto, uno di noi ha detto attenzione che se questa è una bomba, qui succede una catastrofe epocale, sostanzialmente. E, dopodiché, ci fu, mentre sempre stavamo in vacanza, questa notizia, appunto, questa dichiarazione di Cossiga, che si trattava di una strage fascista, e di conseguenza cominciarono gli arresti, ma fu uno degli arresti, come dicevo, molto confusi. In realtà, il 28 agosto, arrestarono, mi ricordo, 40, 30, 40, 60 persone di ogni genere e tipo. Più o meno tutti quanti quelli più o meno noti, o più noti di altri, che orbitavano in un ambiente che poteva essere considerato di estrema destro. E da lì cominciarono a fare dei distinguo, cioè, tu di che gruppo sei, tu non sei di nessun gruppo, e cominciarono a rilasciare le persone. Tant'è che poi un filone di inchiesta specifico su terza posizione, arriva un mese dopo, col 23 settembre. Nel frattempo, io avevo una ragazza che era incinta, che invece venne arrestata negli anni 19. Aspettavamo un figlio e venne arrestata il 23 settembre. Infatti, il mio figlio è nato in custodia. Io, meno male, fino al 23 settembre stavo, sì, un po' a casa e un po' no. Ma anche perché, insomma, la situazione era evidentemente in grande evoluzione. Tant'è vero che poi il 23 settembre, quando ci fu questa retata nei confronti di quelli propriamente di terza posizione, io non ero a casa. Non ero a casa e quindi non mi presero. E io mi volevo andare subito all'avvocato perché mi volevo costituire. Cioè, gli dissi, guarda, c'è solamente nulla da temere, quindi... E l'avvocato mi disse, guarda, non hai capito l'atmosfera, non hai capito il clima, non è così. Cioè, tu potrai anche dimostrare che non hai fatto niente, ma succederà tra due anni. Cioè, nel senso, tu se entri adesso, praticamente, ti fai tre, quattro anni e poi se ne parla. Il primo grado. Cosa che poi successe effettivamente con la maggior parte dei nostri. E vennero tutti quanti assolti, quattro anni e mezzo dopo. Il primo grado. Però si fecero più di quattro anni di carcere, anche carcere speciale e così via, per essere poi assolti o prosciolti. Quindi io ebbi questa fortuna, che poi era la fortuna che avevo condiviso con mio fratello, che nel frattempo appunto non era a casa anche lui quella sera, perché stava dormendo da amici, e che però appunto poi venne invece arrestato il 4 ottobre. Nanni, il fratello maggiore di Marcello, viene arrestato mentre si reca ad un appuntamento con un giovane da tempo nel merino delle forze dell'ordine. E' Luigi Ciavardini, ex terza posizione, confluito Neynar, membro del gruppo di fuoco responsabile dell'uccisione dell'agente Francesco Evangelista. Secondo alcune fonti, al momento dell'arresto, Nanni De Angelis viene confuso con lo stesso Ciavardini e percosso brutalmente all'interno della questura. Il 5 ottobre viene ritrovato impiccato nella propria cella del carcere di Rebibbia. La versione ufficiale è che si sia suicidato. Sono stato contattato in tempi recenti da uno dei medici che aveva fatto l'autopsia, che disse che mi voleva parlare e io ne parlai con i miei fratelli e dedussi che effettivamente volesse dirmi qualche cosa che non era stato rivelato prima, ma io scelsi poi di non andarci. Perché se effettivamente poi il meglio mi si è dato la certezza che il mio fratello era stato ucciso, che l'impiccagione era stata, come appunto si era stato sostenuto, come era stato sostenuto un modo per occultare la morte dovuta alle percosse e che poi effettivamente fossero stati dei pistaggi, interventi, ovviamente a questo punto anche molto gravi da parte dei magistrati e così via, a distanza di così tanti anni, doverlo dire praticamente ai nostri genitori ho pensato che fosse una cosa sostanzialmente da evitare, tanto non è che ci avrebbe restituito mio fratello. Quindi io ho praticamente dati certi perché c'erano le cartelle cliniche, ma anche le testimonianze, non so, del personale medico piuttosto che altro, che effettivamente mio fratello venne percosso a lungo e ripetutamente nel corso di tutta quanta la giornata, che poi venne portata al craniolesi, che al craniolesi era sostanzialmente incapace di intendere e di volere, nel senso che non era in grado di declinare neanche le proprie generalità e malgrado questo però il magistrato stabilì il trasferimento al centro clinico del carcere e mentre lo portava al centro clinico invece l'ambulanza venne dirottata sull'isolamento. Quindi oggettivamente ci furono proprio una carenza, un rifiuto di cure mediche, un trattamento che sostanzialmente fu improprio. Quindi può anche essere che sia morto semplicemente per quello, nel senso che aveva, non so, un versamento, si era parlato di un'emorragia probabilmente cerebrale che a quel punto, chiaramente prendendo e portandolo, non so, sei minuto, non c'era anche i vestiti, incapace neanche di declinare le proprie generalità, senza ricordarsi neanche dove era, era convinto di aver avuto un incidente giocando al rugby. Una cella di isolamento, insomma, già quello. Morello era un grande sportivo, un giocatore di rugby, giocatore di football americano, aveva avuto una buona affermazione quando era più giovane, la palla canestro. Non era una persona particolarmente robusta o diciamo fuori misura, però è semplicemente una grande forza, che non era solamente una forza fisica e forza muscolare, era proprio una persona molto fisica sostanzialmente, che gli permetteva sostanzialmente di avere questo grande risultato in qualsiasi sport facesse. E era una persona che non aveva assolutamente la percezione della paura fisica, cioè il che è un difetto, non è un pregio, nel senso che anche quando eravamo bambini, lui era uno di quelli che sceglieva sempre le attività più rischiose, insomma, buttarsi dal secondo piano a salire sull'albero e che attività... Qui io mi facevo coinvolgere a malincuore, perché avevamo un anno e mezzo di differenza, una grande differenza fisica, ma ovviamente siamo cresciuti insieme. Sei anni dopo la sua morte, spunta il nome di Nazareno De Angelis nelle indagini sulla strage di Bologna. Angelo Izzo, il mostro del cerceo, sostiene che Nanni fosse tra gli autori materiali, un'accusa totalmente infondata. Il 2 agosto del 1980 mio fratello praticamente capitanava la squadra di football americano che fece la finale proprio quel giorno con un folto pubblico, era il primo campionato di football americano in Italia, in Italia, quindi c'era molto... c'era il pubblico, furono le premazioni, quindi anche con le personalità del CONI, ma anche le personalità istituzionali, ci furono le riprese televisive, quindi insomma era evidente che... cioè lui non era a Bologna né quel giorno, né il giorno precedente, né il giorno successivo. Luigi Ciavardini era il test a discarico di Mambra e Fioravanti. Quando decisero sostanzialmente, quando un altro detenuto comune che sostanzialmente aveva deciso di collaborare e indicò Mambra e Fioravanti come presenti a Bologna, travestiti non si sa perché da tirolesi e autori o quantomeno sostanzialmente coinvolti nella strage, Ciavardini che a quel tempo era detenuto disse no, non è vero, erano con me a Padova il 2 agosto. Gli venne fatto presente che se lui avesse insistito praticamente a sostenere che era con Mambra e Fioravanti, i magistrati non avrebbero creduto che Mambra e Fioravanti erano con lui a Padova, bensì che lui era con loro a Bologna. E quindi praticamente, siccome lui continuò a mantenere questa sua linea, venne imputato anche lui per la strage. A quel punto, per dei meccanismi veramente particolari, Izzo chiamò un giudice e disse, secondo me, cioè io ho la certezza che se c'era appunto Luigi Ciavardini, sicuramente non potevano mancare i suoi due migliori amici, che erano mio fratello e un altro, il quale altro era anche lui, faceva parte della stessa squadra di fotbole americano, e quindi anche lui venne inizialmente coinvolto, ma poi scagionato immediatamente, perché dalle riprese stesse dell'azione. Per qualche misterioso motivo, poi sostanzialmente vennero ovviamente prosciolti mio fratello e l'altro, perché appunto per dati oggettivi, però poi invece Ciavardini venne mantenuto all'interno di questa inchiesta, francamente, io ovviamente l'ho seguita da allora in maniera molto dettagliata, eccetera, ma senza assolutamente alcun elemento, ma neanche, appunto neanche questo del collegamento, del collegamento forzato, forzoso, però comunque insomma mio fratello effettivamente a un certo punto risultò utile probabilmente proprio il fatto che era un depistaggio, era uno dei tanti depistaggi, cioè su Bologna i depistaggi sono stati una decina almeno, cioè dal 3 agosto in poi, fino a tempi relativamente recenti, mi avviso fino alla condanna mia opinione, mia certezza e la condanna di Mambre fino avanti, cioè è il depistaggio, insomma, per evitare sostanzialmente che si facciano ulteriori indagini. Io ero in Francia e praticamente io ho saputo dall'Italia che stavano per arrestare delle persone a Londra e quindi ho cercato di contattarli per avvertirli che c'era questa situazione di pericolo, non sono riuscito a, diciamo, a contattarli, a quei tempi non c'era la tecnologia avanzata, non c'erano i cellulari, eccetera, quindi sono andato fisicamente a informarli. Quando siamo andati appunto a cercare delle persone che stanno lì a Londra a casa per avvertirli c'è aperto la polizia. Lei farà un periodo di detenzione in Inghilterra, Inghilterra che però negherà l'estradizione. Sì, non riconosce nessuna delle accuse che ci sono rivolte, ci vengono rivolte dalla magistratura italiana perché ritengono che nessuna sia comprovata e di conseguenza restiamo lì. E io ci resto alla fine nove anni. E cosa fece durante questo periodo? Ho cominciato come tutti quanti a lavorare, ho lavorato in pizzeria piuttosto che fare il lavapiatti, poi siccome effettivamente avevo cominciato l'Istituto Europeo di Design mi occupavo un pochino di grafico, ho cercato un lavoro dentro la tipografia, poi in un giornale, poi sono diventato art director per una casa editrice e finché poi invece appunto nove anni dopo ho detto la mia fidanzata inglese che io devo tornare in Italia e mi sono costituito. Non ero venimamente al corrente né di quale fosse la realtà carceraria italiana perché non c'ero mai stato né di come si fosse evoluta nel frattempo rispetto alla mia partenza. Nel frattempo c'era stata nell'86 c'era stata la legge Cozzini c'era stato c'erano stati dei cambiamenti anche diciamo sociali se vogliamo sociologici in carcere dovuti proprio alla detenzione politica la massiccia presenza di detenuti politici di area di sinistra che erano numerosissimi stiamo parlando di migliaia e migliaia avevano sostanzialmente cambiato proprio anche il tessuto antropologico del carcere e cambiato i rapporti tra i detenuti e le amministrazioni anche perché si trattava di persone che avevano una cultura spesso elevata e una grande sensibilità politica e di consenso anche una capacità di relazionarsi con le istituzioni cioè la diciamo la modernizzazione del carcere in Italia paradossalmente non sarebbe esistita se non fosse stato per la detenzione politica l'Italia il mondo l'Europa era completamente diversa quando sono uscito dal carcere frattempo c'era stata a Tangentopoli il 92 a fine della prima della prima repubblica la fine di conseguenza anche diciamo della convenzio ad escludendum nei confronti appunto della diciamo dell'arco costituzionale la militanza antifascista che continuava però insomma voglio dire era un po' residuale nel frattempo era caduto il muro di Berlino con la caduta del muro di Berlino alla fine dell'Unione Sovietica in realtà erano saltate tutte quante le premesse dei nostri schieramenti politici della nostra militanza che era da una parte forzata da questa tensione continua del mondo bipolare e nel nostro caso specifico e non solo nostro di quelli diciamo considerati di estrema destra anche di quelli che poi militavano non nel PC a sinistra c'era anche questo radicale rifiuto di accettare praticamente di doversi schierare dalla parte per un polo o l'altro cioè che se tu non stavi con i sovietici stavi con gli americani se non stavi gli americani stavi con i sovietici questo tentativo di rompere questa o questo bipolarismo opprimente che in Italia aveva anche questa rappresentazione plastica politica DC da una parte e PC dall'altra e nel frattempo tutto questo era finito teoricamente era finita la repubblica dei partiti e dei corrotti che era quella effettivamente contro la quale noi eravamo particolarmente motivati che poi era stata esplicitata da Angentopoli ma che era nota a tutti la politica delle mazzette che noi pensavamo che fosse finita allora invece abbiamo visto che in realtà non era così dopo negli anni successivi quindi teoricamente quando sono uscito c'era un altro mondo una sostanziale prateria che poi si è concretizzata politicamente in evoluzioni politiche importanti dal 94 in poi c'è stato anche proprio un altro scenario politico attraverso mio padre chiaramente noi avevamo risentito di una educazione musicale importante particolarmente più classica più classica che altro io invece che ero rimasto un pochino fuori da questo giro perché mia madre per qualche ragione pensava che io fossi non fossi interessato alla musica perché non avevo dato particolari dimostrazioni arrivato invece in età adolescenziale mi sono avvicinato alla musica contemporanea cioè la musica dei ragazzi sostanzialmente io non so dimenticare la mia rabbia e la vergogna la mente che è un ragazzino che ha già messo all'argogna vera e voluto dire io non so dimenticare i pezzi che possono essere considerati politici parlano di una dimensione che per qualche ragione non viene compresa della ghettizzazione e della persecuzione sostanzialmente che noi vivevamo nel nostro periodo di adolescenza noi eravamo protagonisti e vittime che è una cosa ancora peggiore perché ti dà anche il senso della responsabilità a posteriori noi subiamo e siamo anche responsabili di una lettura di questa parte importante della nostra esistenza importante perché ci ha comunque marchiato oltre che marcato e avendo un'impossibilità totale di farla percepire agli altri come abbiamo percepito noi anche in termini di ambizioni che volevate fare sognavate la rivoluzione ma che rivoluzione era eravate contro la democrazia no nessuno era contro la democrazia volevate la dittatura certo che no anzi noi teoricamente tutti quanti pensavamo che fosse possibile avere non so più libertà o più umanità eppure magari appunto all'interno di questo anelito di maggiore umanità covavano e si nascondevano praticamente degli atteggiamenti assolutamente diabolici un'interno di questo o più di un'interno di questo l'interno di questo di un'interno di questo di un'interno di un omogra Grazie a tutti.